E' in programma per i giorni 9 e 10 marzo 2019 presso il palazzetto dello sport di concilio della città di Agropoli, l'ottava edizione della Salerno Open, la competizione nazionale di danza sportiva. La manifestazione riveste una certa importanza nazionale, considerato che porta nella cittadina agropolese atleti provenienti da tutta l'Italia e ha come obiettivo la diffusione e la promozione della pratica sportiva. Le discipline previste in occasione della competizione sono danze standard e latine, danze nazionali, danze caraibiche, danze artistiche e danze argentine, di tutte le categorie e classi. Ai vincitori saranno offerti dei fantastici premi, offerti dagli sponsor. Ogni competitore che prenderà parte alla gara deve essere regola con il tesseramento per l'anno in corso e con la certificazione medica prevista per la classe di appartenenza. Le iscrizioni devono pervenire entro il 5 marzo 2019 all'indirizzo e-mail salernoopen.it con allegata ricevuta di versamento. Per maggiori informazioni o per l'iscrizione è possibile consultare il sito salernoopen.it. L'ingresso al pubblico ha un costo pari a 8 euro.